È a rischio l'incolumità pubblica, così l'avvocato Corrado Squadrone si fa promotore dei residenti di Scerni e torna a sollecitare interventi urgenti alla provincia di Chieti per la messa in sicurezza della strada provinciale 151. Le immagini filmate da Nicola Cinquina mostrano avvallamenti al chilometro 7 che hanno provocato dislivelli pericolosi per automobilisti e mezzi in transito. Siamo all'ennesima situazione di disagio, disastro ambientale. Questa strada, Piano dei Fiori, la strada provinciale 151, chilometro 7, presenta questi due pericolosissimi avvallamenti a rischio di schianto e la provincia di Chieti, malgrado tutti i solleciti del mondo, non ha ancora provveduto ad aggiustare con grave pericolo per la incolumità pubblica, come avete visto pure dalle immagini. Chiediamo per l'ultima volta di procedere a sistemare e mettere in sicurezza questo tratto stradale che è transitato quotidianamente da centinaia di macchine, di autovetture, che si riconoscerne all'Istituto Agrario per lavoro avvasto. E' pericolosissimo, ne va della incolumità pubblica. Grazie. 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 Grazie.